Sindaco Luciani, Francavilla presente, terzo anno consecutivo, avete parlato di obiettivi importanti anche per il futuro in conferenza stampa, intanto questa edizione del torneo. Sì, terza edizione che accogliamo con orgoglio, in realtà vorremmo che, come ha detto anche l'assessore Febbo in conferenza, che raggiungere anche la maggiorità, quindi che questo torneo sia qui per tanti tanti anni ancora perché ci dà un'incredibile visibilità e devo dire non solo alla mia città ma all'intera regione, nella regione Abruzzo che con noi fornisce un idoneo contributo, un torneo che ha milioni di visualizzazioni sul web e quindi il nome della città di Francavilla, della regione Abruzzo che viaggiano per il mondo con tennisti che poi ci ritroviamo dopo qualche anno a far parte dei primi 10, 20, 30 al mondo e quindi li troviamo nei grandi palcoscenici. Quindi benvenga questa terza edizione, speriamo che sarà la terza di una lunghissima serie.